ciao a tutti ragazzi bentornati nel mio canale sono daniele oggi voglio portarvi in questo video diciamo speciale dove vi mostro live caricamento dei prodotti uno dei miei negozi lo specifico ebay andrò a caricare circa 2000 prodotti vi faccio vedere il processo base non è l'unica strategia è una delle strategie che utilizzo quando devo caricare tanti prodotti e tutti insieme parliamo tanti mille per mille 3.000 4.000 prodotti e quindi senza una ricerca specifica poi ci sono altre strategie in cui si applica la ricerca del prodotto si va nello specifico questo comunque tutt'altra tutt'altra situazione in quel caso si vanno a vendere i prodotti venduti si vanno ottimizzare si mettono prodotti simili questa invece nella è la situazione in cui hai il negozio che ha migliaia e migliaia di rettipoli e ovviamente devi andarli a riciclare devi andare a mettere migliaia di prodotti alla volta sono strategie diverse farò un video anche dedicato a quella alla ricerca del prodotto specifico su negozi più piccoli prima di tutto prima iniziale voglio ringraziarvi a tutti voi che vi iscrivete e voglio anche volvi e mi scuse perché negli ultimi video l'audio è stato abbastanza scasso alcuni di voi mi hanno fatto notare mi avete detto di comprare il microfono la verità è che i microfoni li ho ne ho due dopo un po' di ricetta dopo aver fatto un po' di prove ho scoperto che è il microfono che guasto io utilizzavo questo microfono qui che si è guastato così senza avviso facendomi sgranare l'audio non è stato semplice a capire che è stato il microfono perché ovviamente non andavo a immaginare che non è molto vecchio l'ho comprato da poco non andavo a immaginare che si è guastato ora sto registrando con l'audio del computer ma ho già ordinato un nuovo microfono grazie a tutti per la vostra pazienza ma non perdiamoci più in chiacchiere andiamo a vedere un po' come si fa ricercare il prodotto siamo qui sulla mia pagina auto ds qua ci sono gli ultimi ordini che ho ricevuto per andare a caricare diversi ordini in questo caso ne va a prendere riferimento amazon e vi mostrerò come caricare diversi prodotti e la linea guida che utilizzerò allora quello di cui abbiamo bisogno ovviamente è un negozio base che supporta tutti questi prodotti in cui già vendiamo non è consigliabile anzi ve lo sconsiglio totalmente di caricare migliaia di prodotti in un nuovo negozio il nuovo accanto se volete sapere di più potete cercarmi via email trovate l'indirizzo in descrizione dopodiché quando io vado a caricare migliaia di prodotti vado nella pagina degli ordini ricevuti sono questi qua questi sono alcuni degli ordini che ho ricevuto diciamo in questi ultimi due giorni e ovviamente dovete aver bisogno dell'estensione auto ds se utilizzato ds installata che vi farà estrapolare il prodotto ora quello che vado a fare è ovviamente per non cercare di caricare tutti i prodotti a caso è andare a utilizzare gli ordini che ho già ricevuto per prendere categorie di prodotti che che già hanno venduto perché ci sono più probabilità che se io ho venduto una penna vado nella categoria di quella penna metterò tutti i prodotti simili perché se ha già venduto uno o più volte ci sono più probabilità che quella categoria possa vendere nuovamente quindi questo tipo di strategia per non mettere tutto a caso andiamo a prendere lo storico dei prodotti che già hanno venduto in questo caso andrò a vedere gli ultimi prodotti che ho venduto sono qui ovviamente ho dovuto scurare molte cose come i dati del cliente le foto e tutte quante tutte le cose ma ci sono degli essenziali andrò a prendere come vedete qua c'è source item id che la scene di amazon cliccandoci ci porta nella pagina prodotto venduto questo prodotto è andato è stato venduto da 23 99 e il pezzo di acquisto è 16 99 aspettiamo che carica ok eccoci qua non vedete 16 99 si tratta di elastici per la palestra categoria che sicuramente sta andando forte in questi giorni con le nuove restrizioni la chiusura delle palestre in questo caso cosa faccio qui sono nella nella categoria nelle sottocategorie vado a scegliere se fare una categoria intera o sottocategoria in questo caso essendo un articolo sportivo la categoria è enorme e c'è comunque molta richiesta quindi mi conviene andare nel sottocategoria chieste pilates and cliccando su pilates sotto la categoria che è la sottocategoria ve l'ho riportato qui che è la pagina principale della sottocategoria come vedete con tutti gli articoli simili quello che andrò a fare che mi sposto in alto quello che andrò a fare ok dire qui dove ci sono le pagine come vedete qua c'è l'estensione pallino auto ds cliccandoci questo compare solo nelle pagine amazon supportate cliccando ci si apre questa pagina dove proposto per me posso estrapolare tutti i prodotti che mi servono quindi andrò a cliccare estrai come vedete è stato 112 prodotti faccio un po di pagine di questa categoria che sono articoli che vendono molto è una categoria che già conosciamo comunque so già l'esperienza questo prodotto in questi giorni sta vendendo tantissimo quindi vado a estrapolare qualche centinaio di articoli di questa sottocategoria non mi interessa fondamentalmente quali articoli sono ok tanto estrarre come vedete il processo un po ok dipende dalla pagina perché ovviamente non vi fare strada i coppioni di estrai e quindi andiamo avanti così per un po di pagine fino a quando non riteniamo che il numero di articoli di questa categoria sarà soddisfacente per il nostro negozio siamo a 300 356 e continuiamo avanti così arriviamo a 400 che come vi ho detto dovrebbe arrivare circa 1500 2000 prodotti quindi questa categoria diciamo a 400 mi bastano quello che faccio ora è chiudere queste pagine non vi preoccupate codice estetti di manco e vado all'ordine di ricevuto successivo e vedo cos'è seghe per potatura sono utensili per potare le piante e gli altri come vedete ci sono seghi accessori pensieri a mano sinceramente non mi fa impazzire moltissimo questa categoria però ha già venduto andiamo a estrapolare comunque un paio di pagine su questa categoria anche che comunque ci sono prodotti interessanti vanno ti va a portare nella nella pagina di piccolo la ricerca che apponta prodotti o estratti sì comunque sono prodotti che avendo gli articoli gli articoli diciamo tensili da casa da lavori come tra app e gli abitatori può andare bene ok poi magari il prossimo video vi faccio vedere come stravolare più veloce perché abbiamo bisogno di un'altra estensione però no al momento su questo browser comunque volevo fare poca confusione perché già il video se siete alle prime armi può richiedere un po' attenzione come vedete comunque non mi interessa tanto i prodotti che vado a estrare nemmeno i prezzi perché come andremo a vedere e poi i prezzi li andiamo a decidere noi su auto di essere quando andiamo a cliccare i prodotti quindi estriamo siamo a 500 a 600 che ripetiamo il processo diciamo che tutti gli ordini ricevuti quindi vado a cliccare su un altro ordine cos'è una terapia alternativa un diffusore che va su terapia alternativa prodotti per la medicazione questa acqua è una bella categoria perché comunque di tendenza in questi periodi diciamo l'aromaterapia i diffusori gli odori essenziali creme tutte queste cose sono abbastanza di tendenza grazie anche gli influencer che ha un paio gli anni che spingono su questi trend quindi andiamo sempre a colpo sicuro le persone stanno spendendo sempre più soldi per il proprio benessere fisico e mentale quindi si è una categoria che mi piace molto andiamo a estrarre siamo a 700 direi di arrivare a 1000 e fermarci qua così che il video non diventi troppo lungo e in pratica il processo che andiamo a fare sempre è sempre questo andiamo a estrarre prendiamo categoria ora porto un po avanti video per meno abbiamo capito abbiamo capito cosa cosa bisogna fare questo è un'altra vendita intratore per lo sport ovviamente io queste vendite poi vado a ottimizzarle nei miei negozi questo articolo l'ho già venduto io nel mio negozio andrò a ottimizzare le immagini andrò a ottimizzare i titoli in modo che venda sempre di più in questo caso alimentazione e nutrizione ci va bene come sottocategoria e andiamo a estrapolare un bel po di articoli ok siamo a 800 va bene mi fermo qui immagina che andiamo avanti per altre due categorie arriviamo a 1000 e 1500 cosa facciamo in questo caso puoi esportare sia i file come csv che cosa va nel computer oppure se lo vuoi tenere se vuoi fare le modifiche oppure lo selezioni tutto selezioni tutto fino alla fine ok siamo arrivati alla fine fai clic destro e copia e abbiamo copiato tutti i codici ora cosa dobbiamo fare tornare solo di s andiamo su upload quindi andare a caricare i prodotti e abbiamo il upload regolare che è quello che ho fatto vedere l'ultima volta e poi il bulk upload che è quello per caricare migliaia o centinaia di prodotti tutti 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 una volta qui andiamo a cliccare in colla quello che abbiamo copiato prima e come vedi sono tutti i assi ok qua andiamo a vedere le configurazioni e andiamo a configurare nel modo che ci serve andiamo a mettere qui eBay Italia perché in questo caso sto ottenendo i prodotti in Italia sul Blackheaven andiamo a mettere la percentuale in cui non vogliamo che un prodotto scenda di prezzo rispetto a quando è venuto su eBay quando è venuto su Amazon che è la nostra linea di parità diciamo dove noi andiamo a vendere in pari quindi io metto il 17% perché il software ovviamente va a fare una sorta di repricing con i competitors quindi con le altre persone che vendono gli stessi prodotti in modo da avere un prezzo competitivo e darci maggiore visibilità in questo caso metto il 17% poiché abbiamo il circa il 10% di fee eBay che andiamo a pagare eBay circa il 3,6% di costo PayPal, il 2% di costo IVA sulla fattura venduta, sulla fattura di eBay e il 2% di costo di AutoDS quindi se noi vendiamo al 17% in incremento rispetto al prezzo di Amazon noi andiamo in parità qua c'è il profitto addizionale che è se noi vogliamo applicare un costo fisso in più in questo caso a noi non interessa il percentuale di profitto in più è quello che dobbiamo andare a vendere 15% quindi idealmente noi vogliamo 15% di profitto di ogni prodotto ovviamente il software da solo in base ai competitors può scendere da 15% al 4% al più al 12% in base ad altre configurazioni del prodotto può anche aumentare ma non può mai e poi mai andare sotto il 17% che è quella nostra cifra di qualità che abbiamo inserito il prezzo io voglio per esempio che vengono caricati articoli solo che costano almeno 10 euro per non avere articoli troppo economici questo perché? perché noi stiamo andando a caricare migliaia di prodotti presi diciamo un po' a caso quindi dobbiamo fare dei filtri e voglio il massimo che un prodotto che venga caricato costi 200 euro non mi interessano prodotti in questo caso che costano di più quindi il software dei codici che abbiamo preso su Amazon andrà a selezionare prodotti che costano almeno 10 euro del massimo 200 euro da caricare la quantità per ogni prodotto che vogliamo caricare in questo caso uno io consiglio sempre uno per non mangiarti quei limiti di vendita a meno che hai un account senza limiti di vendita come alcuni che ho io che sono molto rari ma in ogni caso non c'è motivo di selezionare più di uno perché il software quando ti vende un prodotto te lo rimette automaticamente disponibile se non è disponibile su Amazon questi li puoi lasciare di default sono le business policies di ebay che dovresti avere già settate su ebay queste ovviamente ti devi fare qualche configurazione per iniziare a vendere su ebay se hai bisogno di una mano per iscrivere via email o iscriverti al canale non do dimenticare che farò video anche dedicati a questo i template sono le descrizioni se tu ti crei una descrizione per i tuoi prodotti che così il software ti ricarica quindi è presente quando vai sulle pagine ebay che vedi una descrizione tutte le immagini, le scritte, le politiche del negozio tutte le cose, te le prepari così il software per ogni annuncio te lo inserisce automaticamente poi devi mettere la località del prodotto in questo caso Italia è la località del prodotto da dove viene espedito in questo caso possiamo mettere molti location perché autonorizza più magazzini sparsi in tutto il paese qua andiamo noi a mettere duplicate main picture to wealth che sarebbe che il software in automatico di mettere 12 foto nell'annuncio che sono numero massimo di foto e poi aveva annunci ebay Amazon si rende una 12 foto una un po' di meno te le moltiplica per raggiungere i 12 questo perché ebay ti dà più visibilità se sfrutti tutte le foto inserite e questo ti mette ogni parola del titolo in carattere maiuscolo con la lettera iniziale questo i video non lo devi mai attivare te lo spiegherò in un altro video cosa sono e in marketplace, al loro marketplace sarebbe quanto se vuoi anche articoli venduti scritti da venditori terzi cioè articoli non prime fatto questo puoi caricare, puoi fare salva o upload in base a se utilizzi il software IPA o non IPA e vi hanno caricati automaticamente nel tuo negozio bene ragazzi spero che il mio video vi sia stato utile grazie a tutti di avermi seguito fino alla fine ti ricordo di iscriverti al canale e mettere like al video così mi aiuterai a crescere e soprattutto rimanere aggiornato sui prossimi video su ebay, amazon, dropshipping, finanza personale tutto quello che riguarda il mondo dei soldi stiamo crescendo come comunità e vi voglio portare contenuti sempre più interessanti e grazie a tutti quelli che mi servono e che mi cercate sia su instagram che su facebook e via email grazie a tutti, ciao alla prossima